Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video! Wow, io sono Benji, come vedete. Ciao! Ciao Benji, ma dove andate a Zura? Qui! Ciao Zura! Ciao! Ma che bella che sei, sei tutta truccata, fammi vedere. Wow, ti sei truccata con la tua nuova trussa. Sì, perché adesso però sono spennite le onde un po'. Asci, avevi le onde del mare sulla guanciotta. Sì, perché volevo tipo andare come stile di questo, un po' blu, per fare un trucco di acqua. Allora Zura, cosa stai facendo di bello qua? Stavo giocando a fare i quadri. E poi? Ho una sorpresina per voi. Una sorpresina? Sì. Che cosa? La sala giochi! La sala giochi su Tocca? Sì. No! Assolutamente da vedere! Sì. Andiamo. Allora, come vedete, sto per veramente fare i quadri. Adesso andiamo a mettere il mio patro. Parti questi due. Mangiamo con una patatina. Adesso possiamo andare. Ho visto che fa un po' freddo perché è inverno. Ho una bella giaconda, come avete detto. Come avete visto. E' questa qui la sala giochi. Questa, vediamo. Questa qui. Bella. Ci entriamo? Ok, non facciamo spoiler. Sentiamo prima le musichine. Allora, prima. Bella. Che figa! Bella. Questo è lo spazio. Questo. No, scusa. Ecco. Ok. Basta, l'abbiamo sentito troppo. Facciamo così. Ok. Aspetta. Perché? C'è un bambino. Perché? Iniziamo subito. Il primo, che cos'è? Da provare assolutamente. Da provare. Sarò ovviamente brevissima. Invece, dopo due secondi. Subito canestro. Ok, allora, ti chiamo anche a te, se non sono sola. Qual'è di te? Qual è il ruolo? Ti ricordi più? Eh, sì, eh. Ciao, mamma. Ciao. Come stai? Bene. Sono in sala giochi, non vedo l'ora di divertirmi. Ok. Intanto, questo crescettino quanto è bello. Sai, sono un po' negata io a basket, eh. Quindi, vabbè, se non farò canestro subito, Fai lo stesso, vero Zora? Ok, mamma, metti qui il dito sulla palla. Proviamo, ecco qua. Non so, non so se ci giù, no. Allora, no. Devi cliccarla. Cliccarla. Ma come faccio, mentre faccio il video? Eh, sì, provi. Ok? Eh, no, sono io, aiuto. Oppa lei. No. Eh, vabbè, vai. Ok, vabbè, dai. Ok, qui. Quelle che sono dentro qui, che abbiamo fatto canestro? Qui sono io e qui sono... Sei te. Io il blu. Ah, ma no, si deve giocare. Ok. Qui. Via! Per cavolo. Cosa è successo? Vai, Zora, che c'è il tempo. Vai! Più canestri. Guarda quanto sono brava. Grande, azzurra. Siamo tutte e due. Ti ho detto che hai vinto. Grazie. Ok, adesso... Adesso passiamo ai prossimi giochi. Ok, bambino, mi dispiace, ma vai dalla tua mamma. Ok. Questo cosa... Tante monedine! Sono dieci, si pensa. Eh, sì. Allora, prima ci mettiamo questo. Allora, io vorrei provare questo. Purtroppo che... Credo che possiamo. Questo è carinissimo. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Allora, se non ricordo male, ecco, sì, devi dare le martellate sui animali. Sì, 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 sì. È un gioco di velocità, vai, Zora. Prendili tutti. Sì, sì, sì. Eccolo. Monelli! Monelli! Ho vinto! Sono una pronta solo, sembra. Sì. Mi vanto. Ok. Ma tu vuoi provare questo? Cos'è? Il flipper? No, prova tu il flipper. Sai come si usa? Io voglio quello dell'ultace però. Allora, ecco. Sono malissimo, Fata. Faccio io. Vai, vai. Vediamo la pallina. Eccola. Ma lui non c'era una spazia. Ah, no. Sì. Cosa ci dice? Ah, no. Mia mamma! Mi ha sempre voluto bene? Eh, è vero. Allora, io ho fatto i compiti. Io ho letto sempre come riga. Ups. Questo non è vero. No, non guardare. Eh, vabbè. Sì, sì, sì. Allora. Bene. La mamma. Li piace veramente, papà? Ecco. Allora, andiamo avanti, sì. Prossimo. Questi. Che vediamo, qual è? No, questi ne abbiamo già visti. Eh, no. Non li hai neanche provati. È vero. Allora, tu provi uno. Io. Io provo questo. Ok, dai, gioca. Devo fare con quattro dita. E' azzurra, ma che gioco è? Eh, questo è dei palloncini. Sì, bimoni. Abbiamo vinto. Ci sono io così. E guarda questo con le palline, che carino. Quale? Questo? Sì, è come quello, è vero. No, dobbiamo scendere. Che devi prendere la sorpresina. Ok. Andiamo? Ok, sei pronta a chiudere gli occhi? Tre, due, una. Ah, ah, ah. No. Che carina. No, ma tu ce l'hai azzurro. Vabbè, dai, facciamo cambio lo stesso. Credo. Accetto. Ok, però mettiamoli qui. Dopo proviamo l'UR. E questo è carinissimo. Ti ricordi che ci giocavamo sempre, sono giochi. Sì, ok. No, no, mamma, non farmi gol. No, in verità dovrebbe essere... Ha, ha. Ok. No, mamma, no. Cattiva. Ma no. Vai, azzurro, dai, che sei forte. Ah, mi hai fatto gol. No. Tu hai fatto gol. Siamo pari. Ti sei... Ti sei fatta autogol. Ah, sì. Oddio. Ok, però... Chi arriva a dieci vince. Non è valido questo, ok? Vabbè, questo non è valido. Ma io sono ancora più dietro di te. No, no. Non vai. Sottotitura, ma che fai dalla mia parte? Torna là. Ecco. Sarebbe al contrario. Ma cosa fai? Mi sono sbagliata, ma era il contrario. Perché io sono... Tu sei a cinque. No, aspetta. Posso farti un gol? Cioè, perché... Dobbiamo essere a pari, ok? E sono quasi. Sono a quattro e tu sei a cinque. Ma azzurro. Ma vuoi andare? Azzurro, non riesci a fare gol. Ok. Ecco, dai, ok. Allora, da adesso... Da adesso io sono a sei. Ok. Dieci vince. Io sono a sei, eh. Lo vorrei dire. Hai. Io sono a sette. No, sì. Ok, siamo a zero, eh. Invece io paro. Perché io sto ferma? Ma mi spiace, ma sto parlando. Mi spiace, tu vincere io. Ma hai già ricominciato tutto il giro. Ma certo. Tre, uno. Eh, una sette. Cioè, ti fa arrivare al limite... Ti fa arrivare al limite... Sette. Sette? Vabbè, ma ormai stai giocando da sole. Cosa ho fatto? Niente. Ok, ho vinto. Eh, non so. Ok, chi vuole fare il VR? Io. Io gioco al VR. Vediamo. mamma, tu cosa vedi? niente no, facciamo di sì cosa vedi tu? io sto giocando a Joby Simulator, tu? io sto giocando vediamo un po' allo stesso gioco perché mi piace un sacco dai, vediamo un po' io sto facendo del cibo buonissimo non sai quanto ah sì? io sto prendendo le cose e sto lanciando in aria tipo le uova in aria sto lanciando i giornali sto lanciando le penne, sto lanciando tutto come nel gioco? sì, sì, tu gioca, tu gioca anche io sto giocando che bello, che bello guarda, adesso mi metto qua, mi metto a fare una pizza lo vuoi azzurro la pizza? sì, falla, falla azzurro, dove sei finita? non ti vedo nel gioco tranquilla, adesso ti porto un cibo buonissimo ma come? nel gioco o non è realtà? nel gioco guarda cosa ti ho portato wow, mi hai fatto scherzo cioè mi hai portato davvero guarda, il panino sì la coca cola sì, andiamo a mangiare dove vuoi? qui o qui? dove vuoi tu? qui ok, la coca cola la teniamo e i panini li mettiamo qui e i panini non li mangiamo? sì li mangia la signora che ha fame no, 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 lei non la vedo un po' strana ok, tieni vuoi fare cin cin con la coca cola? vai ok ok, aspetta perché io non sono di suatta quella sinistra vai cin cin auguri auguri ah un bel polino ho mangiato prima di te buono sì, abbiamo anche finito le ordine lasciamo come sempre qui come nel ristorante scusi, vorremmo due caramelle che gusto fragola, fragola fragola e io mela, grazie ok ecco voi paghi tu oggi, Zura offri tu? certo ho 50 euro anzi no, 2,50 euro non so io sulla realtà veramente ok, ho pagato grazie mille adesso volete giocare un po' da sole? vi lascio da sole va bene, va bene cos'è? ho paura mamma ho paura del buio ho paura ho paura un po' ci sono mostri? ho paura hai visto? ma quello che è il bagno? la sensazione è che c'è qualcuno non c'è nessuno non c'è nessuno no, ma hai fatto caso scusa, Zura ma la porta del bagno è quella lì? sì ma hai visto cosa ha messo nella porta? chiudila disegno questo una cacchetta cosa hai fatto? eccola lì questa la cacchetta la cacchetta più bella del mondo ma dai guarda, guarda ti faccio una sorpresa ecco ecco sorridente come la cacca emoji carina ok, non ci interessa accendiamo le luci perfetto non è successo molto la moletta ve la mangiunga vabbè e ci mettiamo le cremelle pronta? uno, due, tre buonissime insomma diciamo che oggi questa giornata la salo gioca è stata veramente fantastica stiamo anche andando come vedete dobbiamo tornare a casa sì va bene ragazzi allora questo video finisce qua speriamo che queste sorprese di Zura vi sia piaciuta mettete un bel pollicione in su iscrivetevi al canale mi raccomando attivate la campanellina per vedere tutti i vostri video e poi vabbè se volete condividere i nostri video con tutti i vostri amici fatelo pure vi salutiamo tutti e buona serata ciao ragazzi ciao